Eliminato pure, granchio, fetento, aragosta, anzi altro che granchio, aragosta del cavolo, madonna, oggi in poi giuro che mangio tutta l'aragosta del mondo per bendicarmi, non ci saranno più aragoste per colpa di quell'aragosta Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video, sono Sparks e tu probabilmente ancora non sei iscritto al mio canale, quindi per favore clicca sul bottone iscriviti Perché ogni volta ci sono tantissime views nei miei video ma poche iscrizioni, quindi mi raccomando è gratis, iscrivetevi al canale mio, di Sparks Detto questo ragazzi, oggi parliamo di un gioco che probabilmente farà felici molte persone perché io sono un partner di StumbleGuys che richiama tantissimo FallGuys Ma FallGuys purtroppo è un gioco che non tutti possono permettersi perché comunque è un gioco a pagamento Invece oggi parliamo di un gioco in stile FallGuys ma gratuito per PC, si chiama BroFalls Vedremo ingredienti, correre e competere in circuiti come FallGuys Andiamo a provare insieme per la prima volta sto gioco perché l'ho appena scaricato, appena l'ho visto l'ho voluto subito scaricare Lo trovate su Steam, vi lascio il link qui in descrizione così potete cliccare e scaricarlo pure voi, è gratis per ora Quindi io ne approfitterei perché è gratis, magari rimane gratis per sempre, speriamo Andiamo subito a testare se sto gioco ne vale la pena o no Sono degli ortaggi Hello? 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 Ma c'è un... ci sono dei broccoli che parlano, ma... Mi stanno a arrabbiare, che è? Ma... Ma cos'è? Top Nessuno mi vuole? Il broccolo cattivo? Sarà l'ultimo cibo dell'universo, ma... Il broccolo malvagio ha catturato altri ingredienti, in pratica bro sta per broccolo Ah, non per bro come brother Ma è uguale È uguale C'è anche il negozio con gemme e corone, bistecca, la pannocchia e il ma... Eppure in italiano, l'ho appena notato Allora, sono una mela e c'è un broccolo che mi insegue Evil broccoli attiva le trappole mentre gli altri cibi corrono verso il traguardo Ah, quindi il broccolo malefico vuole a tutti i costi impedire a tutti gli altri ingredienti di arrivare alla fine Perché lui vuole essere il padrone del mondo L'ultimo cibo al mondo Navica verso gli ostacoli È il broccolo fedente Ah, ma la mappa è quasi uguale a quelle di... Uh, ma è figo, è fatto tutto... Ma... Scappiamo ortaggi Oddio Oh Aspetta, ma qua c'è una sensibilità estre... È difficilissimo Ok Fermi, fermi, fermi Ok, via, via, via Cari No No, vabbè, bellissimo È difficilissimo, è difficilissimo La banana si arresa Ma io sono una mela Non mi arrendo Staviamo Amici frutti Avete una brutta fine voi Niente, niente, sono passati tutti Vabbè, passiamo va Ma... È veramente sus sta cosa Vai, 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 ce la facciamo, vai Addio Posso qualificarmi ancora, vai Sì Sparks cdkey Quello sono io Cdkey è perché Ho la partnership con cdkey Con cui facciamo ogni settimana I giveaway Anzi, vi lascio pure il link sotto in descrizione del giveaway Quindi se volete partecipare si vince una gift card a 5 euro Io lo farei Quindi vi lascio il link Fatelo Ogni sabato un nuovo giveaway Se volete partecipare a vari giveaway Venite anche su Twitch Che ne faccio uno a settimana Quindi trovate i link ogni settimana Nuova mappa Però è molto carino ragazzi il gioco Per essere gratis È fatto molto bene Secondo me Madonna Niente, sono caduto Stato del megaturbo Ragazzi Vai, vai, vai No, ma che Ma che fa quando io salto Ah, torne Quando salto faccio il torne indietro Ma no Questa è sus come cosa Vai, andiamo di qua Andiamo a sinistra Ci stanno i cannoni Ma non ci sono cannoni che sparano Giustamente Sono strani questi cannoni Sono disattivati forse Oh cavolo Vai Mela Sei tutti noi Mela E uno è imploso Non so per quale motivo Che è successo Io scendo di qua Oh cavolino Ma Ma che Che bel giocatore C'è una bomba C'è una niente Sono caduto Dall'inizio Ma che cavolo Non ci credo Ma c'è il doppio salto Credo di aver fatto un doppio salto È possibile Sì Ma c'è un granchio Lo voglio Voglio il granchio Andiamo al centro stavolta Tanto questi qua lo sparano Cheat Qua siamo Pum Faccia No non è sparato Cannoni sus Cannoni sus Ah sono le bombe Uno colpisce la bomba e esplode Ora Vuu Perbaccolina Non ci posso credere Ma è la mappa più difficile del mondo Ma chi l'ha inventata Ma cosa è successo Sono imploso Ho perso subito Ho perso il secondo round F3 Il gioco è fighissimo Ah invita i giocatori Ecco dov'è Ah e posso invitare tutti i miei giocatori di steam Fighissimo ragazzi Scaricatelo Se vi piace Facciamo così Superiamo i 100 like Perché è un gioco nuovo Quando c'è un gioco nuovo Di solito Le views salgono piano piano Superiamo i 100 like Portiamolo in live E ci giochiamo insieme Fatemi sapere se ci è giocato Ovviamente nei commenti Fatemi sapere nei commenti Anche se vi piace Ma soprattutto fatemi sapere Se volete che lo porti in live Per farci duri Stati insieme Vai ortaggio Signora avvocata Niente ho preso in faccia Lo coso Sempre di qua dobbiamo andarlo Tutti i miei fan Che giocano a stumble guys Oh cavolo Oggi funzionano le biglie Niente Oggi non scioprono Ste biglie Io mi sposto Ok no Non ci sono più biglie Che poi non erano biglie Erano tipo Cose di Oh Qua pro player Attenzione ragazzi Qua siamo pro Vai col rosso Fetente 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 Io che dico pro player Ma sto zitto Ma sto zitto Che sono più scarso Di una bocata Se mi sbuga qualcosa in faccia Giuro che sclero Corri 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 Ma secondo me Lo sparo una volta E poi finisce quel coso Credo Manca un È un bug Credo Oh cavolo Ok Ce la posso fare Ce la posso fare You Can't do it Oh Ce l'ho fatto Hop Eh si qualifica Anche quasi pancia Eh allora sono fedenti Il bloccolo malvagio Il bloccolo malvagio Chiediamolo Ecco Ma non Il bloccolo malvagio Bello Sì 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 Vai vai Sì Mi ha dato un colpo in faccia Il bloccolo fedente Vieni qua il bloccolo fedente Ma perché copiscono me Sti fedenti È un emote ragazzi No ma le emote Sono bellissime Partita è terminata Ci hanno fatto Questi non sanno Non sanno manca arrivare alla fine Ragazzi sono scarsi Sono scarsi Guarda se fa un mega frullato Ciao granchietto Così impara a darmi i pugni Ma non era forse lui Il granchio È quel fedente là Guarda Quel fedente che c'è là Quella in bassa sinì A destra Cheese gratter La grattuccia del formaggio No ma ci sono dei mega bugni qua Guarda doveva essere una patata Io per non cadere Andiamo a destra Che secondo me Se andiamo a destra Vinciamo Cheat E niente Guarda si è chiuso Ma che Ma figlio di un'anguria Ma come ti permetti Vai Ma che fai eh Oh cavolino Ma che è un ninja Spark Sono Madonna Naruto si può mettere da parte Vai vai Che Che bel giocatore Ragazzi davvero Che bel giocatore Madonna Che ninja Ma sta che mi qualifico pure sta morta Granchio fedente Volevi Oh ma che Ti sto augurando le peggior cose del mondo Guarda Signor granchio Tu purtroppo non hai una vita sociale A quanto pare Te la prendi Mi sta a bollirai Pure quest'arto mi bollizza Niente So che non è buco Dai però non è giusto Ero arrivato secondo Raga Questa Ma smettete di dire Ma come fanno a pagno Aaaaa Queste per abbracciare Ma come fanno a darmi i pugni bro Ma Ha eliminato pure Granchio Fai tenta Aragosta Anzi altro che granchio Aragosta del cavolo Madonna Oggi in poi giuro che mangio Tutte le ragoste del mondo Per bendicarmi Non ci saranno più Aragosta Per coppa di quell'Aragosta Quando uno dice Non puoi fare di tutta l'erba un pascio Sì Sì In questo caso sì A morte le ragoste Ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco Io mi sono divertito Penso che comunque potete scaricarlo tutti È una bella copia di Fall Guys Ma comunque ha un'originalità sua Perché Comunque ha Quella cosa Quella cosa con gli ingredienti Il blocco che vuole uccidere tutti Le mappe sono fighe Non ho capito ancora come si fanno i pugni Perché mi devo vendicare delle ragoste Mi raccomando state attenti All'Aragosta che sono fedenti Detto questo ragazzi Like e mi raccomando Iscrivetevi E lo dico sinceramente Iscrivetevi al canale Perché molte volte mi capita Che tutti guardano i miei video Ma non tutti sono iscritti Come ad esempio Nel Brow Talk In italiano Che faccio ormai da 5-6 stagioni 100.000 200.000 views Ma Siamo sempre 35.000 Quindi mi raccomando Spingete sto iscriviti Supportate Sparks Supportate Sparks Ciao ragazzi 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 Grazie a tutti.